Questo raga è vero Mining, quindi restate sintonizzati che vi spiego come fare Mining sul vostro smartphone Android. Bella ragazzoni, eccoci qua con i miei occhialini anti-scammerino, mi raccomando non andate più a scaricare applicazioni tipo MinerGate, AA Miner, addirittura gli APK perché ormai sul Play Store li hanno eliminati e c'è un motivo perché sono tutti degli scammerini, non vi permettono di guadagnare niente. Mi raccomando seguite tutto il video, non andate a saltare in giro per il video perché per questa cosa dovete guardare tutto per non perdervi nessun passaggio ma soprattutto mi raccomando se il video vi è piaciuto, potrebbe essere utile, vi ha divertito, se siete come me dei pazzi scatenati che fate queste cose e perdete un sacco di tempo perché vi piace smanettare per fare queste cose, se vi fa piacere condividete questo video del vero Mining su smartphone Android. Detto questo non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Ci troviamo direttamente sul mio browser e la prima cosa che vi dico è che oggi andremo a minare Monero. Monero perché nelle mie ricerche ho trovato un XM Rig che è un software di Mining anche per PC che appunto è adatto per andare a minare Monero. Perché Monero? Perché è una di quelle monete minabili dalla CPU e con i nostri telefoni Android dobbiamo minare per forza con la CPU. Questo sviluppatore che poi magari vi linkerò in descrizione ha creato un fork di XM Rig che permette di minare con i nostri processori ARM sui nostri smartphone Android. Quindi Monero con il suo algoritmo RandomX è la scelta perfetta. Il secondo strumento di oggi è ovviamente il wallet. Come per i video che vi lascio nelle schede io vi consiglio sempre di andare a riperire l'indirizzo del vostro wallet direttamente sul vostro exchange di fiducia. Se non avete ancora un exchange avete il link in descrizione di Binance che vi permette grazie al mio referral di avere degli sconti sulle varie transazioni. Il terzo strumento che ci serve come per gli altri video è una pool. Ci serve una pool soprattutto per minare con un telefono perché dobbiamo mettere insieme la potenza di calcolo con altri miner per andare a minare il blocco e ottenere appunto la reward. Whatamine è un sito che ci permette oltre che a fare vari calcoli anche di andare a scegliere la nostra pool preferita. In questo caso specifico io andrò a scegliere la pool di Chumainers perché è quella che utilizzo anch'io, ecco ho utilizzato anche nel video per minare Ravencoin. Quindi andiamo a cliccare Chumainers e ci troviamo direttamente sul sito di Chumainers. Questo poi ci servirà in seguito. A questo punto ragazzuoli è venuto il momento di andare sul nostro smartphone. Quindi andiamo sul nostro smartphone e andiamo sul Play Store. Dobbiamo andare a scaricarci l'applicazione Thermux che vi spiego molto velocemente è un emulatore di linea di comando, di terminale. Android è basato su sistema Linux, architettura Linux e con un emulatore appunto di linea di comando riusciamo a dare in pasto al nostro telefono tutti quei comandi per installare il nostro miner. In questo caso specifico io ce l'ho già installato, quello che vi troverete davanti quando andate ad aprirlo è proprio questa schermata. Prima di iniziare ragazzi però voglio dirvi una cosa, come vi ho detto all'inizio del video questo è un esperimento, secondo me è una figata, è qualcosa da fare per sperimentare e capire tante cose. Ma se volete fare questa cosa per guadagnare, certo rispetto a tutti quegli scammerini che c'erano su Play Store sicuramente guadagnate 10 volte di più. Però vi faccio vedere che con un hash power di hash per secondo di 400 che bene o male è la media del mio smartphone che è un OnePlus 5T che è un 8 core, il guadagno è di 0,87 centesimi al mese. Quindi a meno che non abbiate una mining farm di 200 telefoni sappiate che questo sarebbe il vostro guadagno. Oltre al fatto che ovviamente dovreste avere il telefono a 24h 7 su 7 a minare per avere un tipo di guadagno del genere. Quindi pensateci bene perché la procedura che adesso andremo a fare ci mette circa 30-35 minuti per andare a installare tutti i componenti che ci servono. Quindi prima di fare questa cosa ovviamente sappiate che è proprio for fun. A questo punto vi ho lasciato un file in descrizione con tutti i comandi che sono comandi per aggiornare il terminal, per andare a installare vari pacchetti che ci servono e infine per andare a installare, a scaricare e a fare la build del nostro miner sul nostro telefono Android. Quindi prendete tutti i comandi che vi ho messo nel file di testo che andate a scaricare e incollateli uno a uno. Quando avete finito la procedura ci troviamo qua insieme per andare a fare, ad avviare il nostro miner. C'è una figata pazzesca. Quindi fate tutta la procedura e ci troviamo qua, mettete in pausa e ci troviamo qua quando avete finito. A questo punto dovreste vedere la stessa situazione che vedo io a schermo. Ok? Cosa dobbiamo fare? Intanto ci posizioniamo con questo comando cd xm rig slash build, ci posizioniamo nella cartella corretta. L'ultimo comando che avete in fondo è il comando che vi permette di avviare il miner con i giusti settaggi. Mi raccomando dove vi ho lasciato scritto il tuo wallet, il tuo indirizzo wallet, andate a copiare e incollare il vostro indirizzo, quello che avete appunto reperito dal vostro exchange. Ok? E se per caso volete cambiare pool perché vi trovate bene con un'altra pool, ricordatevi di andare a cambiare anche l'indirizzo del server. Perché adesso c'è xmr.chuminers.qualcosa, dovete mettere l'indirizzo della vostra pool. Ok? A questo punto io mi sono già copiato il mio comando e bam! Guardate che figata! Mining come sul computer. Vi faccio vedere anche qua. Vedete che sta andando? Cioè è una figata pazzesca ragazzi. A questo punto vediamo l'ultima cosa che ci serve mentre il mio telefono sta minando. Torniamo sul nostro browser. Andiamo sul sito di Chuminers. Inserite la vostra chiave di wallet qua sopra. E andate alla ricerca. Lui vi aprirà la dashboard per andare ad analizzare appunto quello che sta facendo il vostro miner sul vostro telefono. In questo caso specifico io ovviamente l'ho appena avviato quindi a 0 hash per secondo. In realtà se andiamo a vedere qua sotto vedete che prima avevo già fatto delle prove. Qua avevo 200 hash per secondo. In realtà non è così perché uscilla dai 400 ai 600 il mio telefono. E ho già un unpaid balance. Vuol dire che ho già minato 0,00009 xmr che mi devono ancora essere pagati. In base alla vostra pool che sia Chuminers che sia Nanopool che sia la pool che avete scelto. Avete un minimo da raggiungere come sempre per avere il pagamento. E sappiate che ovviamente una volta raggiunta la soglia minima di pagamento la pool vi farà il pagamento automatico sul vostro wallet. Beh ragazzi sono contento di avervi fatto questo video. Spero che vi piacerà tantissimo. Come vi ho già detto prima non voglio tanto rompervi i coglioni. Se volete fate un commento. Se avete dei problemi mi raccomando chiedetemi che vi aiuterò appunto nei commenti a risolverli. Condividete questo video se vi è piaciuto perché può piacere sicuramente ad altri. E vedete ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.